Buongiorno ragazzi, noi siamo Luciano e Rionora e oggi, 19 febbraio, farete con noi il Buongiorno Gesù. La nuova parla del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla lettera ai romani, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa conviene domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Se perdiamo il coraggio nelle difficoltà di ogni giorno, lo Spirito entra e abita le nostre preoccupazioni. A volte noi non sappiamo nemmeno come pregare, cosa chiedere al Signore. Lo Spirito intercede per noi, si mette in mezzo fra noi e Dio, e chiede a Lui ciò che è meglio per noi, con un linguaggio che noi non sappiamo comprendere, ma che è ben chiaro al Signore. Vieni Spirito Santo. Vieni, oh Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza, perché io possa conoscere l'amore del Padre nel meditare la parola del Vangelo. Vieni Spirito Santo. Vieni, oh Spirito Santo, e concedimi il tuo amore, perché anche quest'oggi, incoraggiato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. Vieni, oh Spirito Santo, e donami la tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare, alla luce della tua parola, quello che oggi ho vissuto. Vieni, Spirito Santo. Un piccolo impegno per la settimana. Stai un po' con Gesù. Affidati allo Spirito Santo e prega per una persona a te cara. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma li darci al male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona giornata a tutti.